Un'anima che ha giurato di fargliela pagare a Dio per i torti subiti dalla vita diventare un'anima luminosa, un'anima bella. Questa è una storia di resurrezione piena ed è la storia di Mariangela Calcani che torna qui a stare con noi. Sciolto il ghiaccio, adesso non abbiamo più paura di raccontare. Mettene io, sediti. Allora, cominciamo dall'inizio perché non tutti possono ricordare quello che ci siamo detti la scorsa volta. Mariangela Calcani conosce l'amore di una famiglia adottiva perché i tuoi genitori ti avevano lasciato andare. Una famiglia nella quale tu Mariangela proprio non ci riesci a legare, come tutti i ragazzi, post adolescenza, te ne vai. Partiamo dal momento in cui dici a mamma e papà che ti devi fare la tua vita e dove te ne vai? Decido di andarmene per un primo periodo, andrò in un istituto religioso. Dopodiché decido di mettermi a lavorare perché bisognava comunque vivere ed entro nel mondo delle cucine. Incomincio come lavapiatti, faccio tutta la carriera fino a diventare cuoca e lì inizio a girare il mondo e i soldi iniziano ad essere il dio della mia vita. Ovviamente anche tutto il mondo dell'affettività andava dietro alle stagioni dei cuochi, quindi avevo il ragazzo per le stagioni estive, quello per le stagioni invernali. Ma poi ho conosciuto qualcuno che mi ha amato così, così come ero, con i miei pregi, i miei difetti. Luca era una persona speciale e l'uso purtroppo non del presente vi fa capire che è una persona che scompare. Arriva questo Luca che, tu ci hai detto l'altra volta, fa una cosa grande ai tuoi occhi, ti rispetta come donna e come persona. Sì, Luca mi ha voluto veramente bene, è quell'amore con la A maiuscola. Io ricordo i primi giorni che uscivamo insieme e mi ero un po' preoccupata perché dicevo, ma questo non è neanche normale. Perché insomma dopo tre giorni che uscivamo insieme, questo non mi aveva ancora chiesto di andare a letto. E allora gli ho detto, ma c'è qualcosa che non va? Lui mi fa, no, va tutto bene. E dico, ma veramente tre giorni che usciamo insieme non mi ha ancora chiesto di andare a letto. Lui mi fa, no, dopo il matrimonio. Dopo il matrimonio, io mi ha preso un coccolone e mi dico, ma dove vado dopo il matrimonio? Ridiamoci ma immaginiamo un attimo anche la situazione. Però ci esco, ci esco perché lui mi ama così come sono e mi rispetta, mi rispetta come donna e quindi usciamo per un lungo periodo. Cosa vi teneva in comune? Lo spieghi? Lui non ha mai invaso, diciamo, il mio territorio. Lui mi rispettava, quindi io rispettavo la sua idea. Pertanto io non gli impedivo di andare a messa, non gli impedivo i suoi incontri. E lui non obbligava me a seguirlo. Mi piace pensare un po' Santa Rita con Paolo, il marito, no? Paolo, questo uomo violento, ma che non ha mai usato violenza nei confronti di Rita, quest'uomo che andava in guerra. E mi immagino Rita che aspetta Paolo. E non è che quando Paolo tornava gli diceva tu sbagli, tu devi cambiare, tu devi andare... No, lei stava in silenzio e pregava. E forse gli preparava da mangiare e cercava di dare il meglio, disse Rita. Ecco, credo che Luca facesse un po' come Rita. Poi arriva questo momento bellissimo in cui lui ti chiede di sposarti con un rito, tra l'altro, che tu non conoscevi. Cioè lui confermava la sua fede anche attraverso il matrimonio, ma ti lasciava libera anche di dichiararti non credente. E questo è un altro regalo che ti fa. Però succede che quattro giorni prima di sposarti, Luca se ne va. Sì, Luca parte per il cielo e lì c'è la rabbia. Cioè ti chiedi dove sta veramente questo Dio che lui pregava, no? E ricordo che spesso e volentieri io facevo un po' come uno dei due ladroni, no? E gli dicevo dove sta il tuo Dio? Che ho fatto io al tuo Dio per meritare questo? E lui sorrideva e indicava la croce, ma era un linguaggio che io non conoscevo. Quindi per me era arabo, dicevo ma cosa sta dicendo? E quindi lui parte per il cielo e il dolore viene fuori tutto. Cosa dici a Dio tu? Io ricordo quella sera mentre passeggiavo su questa spiaggia, io ho alzato il mio sguardo verso il cielo e ho detto questo. Ho detto Dio se tu esisti io ti distruggo, ma se tu non esisti passerò la mia vita a dire al mondo che tu non esisti. Ed è incominciata una guerra con Dio, una guerra senza esclusione di colpi, una guerra che mi porterà alla morte, alla morte dell'animo. Tu ti stavi facendo male, stai facendo male a te stessa, di questo sei consapevole. E quindi con la scusa di prendertela con il parre eterno, in realtà sei arrivata in un processo quasi di autodistruzione. C'hai tanti soldi, perché comunque ti rimetti a lavorare, consumi i giorni prendendoti tutto quello che può arrivare, fino a quando entri in un certo giro? Quale? Entro in un giro purtroppo pericolosissimo. Vengo manipolata ovviamente, non è che c'entro. Ma io dico una cosa, io ho davanti a me una testa dura. Tu non mi sembri una che si lasci facilmente plasmare. Come fai? Cos'è che ti porta ad essere completamente modellata ad immagini e somiglianze di qualcuno che è molto pericoloso? È il dolore. Quando una persona sta nel dolore, le prova tutte per uscire. E io comunque ero finita in mani sbagliate. Non è che io sono finita in un giro perché una mattina mi sono alzata e ho detto ok, adesso no. È stata una manipolazione giorno, giorno dopo giorno. Dall'incontro con questa prima persona passeranno ben due anni. Chi è questa persona? Non ci interessano i nomi e i cognomi. Come fai a finire? Dove soprattutto finisci tu? Questa persona era una persona che si qualificava come psicoterapeuta. Nella realtà dei fatti non era una psicoterapeuta, ma era una sacerdotessa di una setta satanica. E lì ho passato due anni. Due anni dove ho perso tutto. Ho perso gli affetti più cari, ho perso gli amici. Ma ho perso la cosa più importante. La dignità di donna. E credo che questo è stato il dolore più grande negli anni, prendere consapevolezza di questo. E mi viene annullato tutto, completamente, dal sonno. E non ero più libera in niente, in nessuna decisione. Sino ad arrivare a una notte, a una notte in cui mi viene detto adesso puoi avere tu il potere. Adesso puoi decidere tu sulla vita delle persone. Ma ci devi dare un segno della tua appartenenza a noi. E mi dicono che a Roma c'è una ragazza. Questa ragazza è Chiara Mirante, la fondatrice della comunità Nuovi Rizzonti. E per loro inizia a essere un problema. E quindi mi dicono se tu vuoi appartenere a noi, vai a Roma e uccidi Chiara. Non ti viene neanche per un momento il dubbio di questa affermazione. Neanche per un istante tu hai detto ma cosa mi state chiedendo? Quando si finisce in questo abisso, davvero si fa così fatica a tirarsi fuori? Sì, credo che per uscire da certe situazioni o hai le persone giuste o non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare perché viene annullato completamente. Tu non sei più libero di decidere niente. E quindi io per esempio vedevo che il mio potere cresceva sempre di più. Quindi è proprio una droga. Cosa intendi per potere? I soldi. Maledetti soldi. I soldi. Oggi ho l'allergia per i soldi. Ho proprio l'allergia. Lo vedo quando è subito. Io non riesco ad avere un debito di un euro perché vado e non ne voglio sapere. A me ha insegnato tanto i nuovi orizzonti a fidarmi della provvidenza e questa cosa è diventata per me anche uno stile una volta conosciuto il monastero di Cascia, di Santa Rita. Guardate, a casa si staranno dicendo adesso siamo partiti da questa immagine, tra l'altro Chiara è una nostra amica. Immaginate questa donna che arriva a Roma, a Trigoria, per dover ammazzare Chiara Mirante e poi dice io da nuovi orizzonti ho capito qualche cosa. Dentro, in mezzo, c'è una storia d'amore bellissima. Noi siamo negli inferi, negli abissi del dolore. Adesso proviamo a risalire. Vieni a Roma, bussi a nuovi orizzonti alla comunità e chi ti apre? E lì mi ha aperto Chiara. Lei racconta sempre questo episodio che quando ha sentito suonare il campanello le ha sentito proprio nel cuore apri tu quella porta perché c'è una mia figlia. che ha bisogno. Chiara si è alzata, ha aperto quella porta e ha fatto una cosa sola. Mi ha abbracciato e mi ha detto finalmente sei a casa. È l'abbraccio che capovolgerà totalmente la mia vita. Maria Angela, devo fare un'avvertenza a casa che è molto ben spiegato in questo libro straordinario che tu hai scritto, Sonorinata, che tra l'altro per chi è a Roma si presenta questo pomeriggio alla Lumsa alle 17. la tua storia perché nessuno creda male a casa è fatta di continui dubbi, di continue ricadute, di continue resurrezioni perché non si passa dall'essere sacerdotessa di Satana a una persona che Dio comincia ad amarlo veramente. Ma hai detto una cosa prima di andare in onda. Io sono figlia di Chiara Mirante. Chiara mi ha partorito. L'amore di questa donna che senza conosce ma profeticamente capisce che lì sta bussando qualcuno che può aver bisogno di lei insinua in te un dubbio bellissimo che è il dubbio dell'amore di Dio. Te che avevi promesso a Dio di fargliela pagare. Da quell'abbraccio che cosa succede? Io ho difficoltà a immaginarti scioglierti lacrime davanti a lei perché avevi un carico di odio, di sofferenze tale che fa di te una persona molto forte o meno i miei occhi. Apparentemente forte ma poi strutturalmente anche debole grazie al cielo, grazie al cielo. Perché oggi credo che c'è un mondo che la debolezza l'ha cancellata e io invece sono fiera di essere una donna debole. Cosa sono gli anni con Chiara? Gli anni con Chiara sono stati anni di guarigione. perché Dio è amore infinito. Quindi è proprio perché amore infinito non ti violenta e rispetta i tuoi tempi. Dio poteva farmi vedere tutto subito lo schifo che ero ma non mi avrebbe rispettato. Mi avrebbe potuto guarire schioccando le dita ma non mi avrebbe rispettato in quest'amore infinito. E quindi ho fatto tutto questo percorso che in comunità Nuovi Orizzonti viene chiamato di cristoterapia. Ma Sant'Agostino la chiama questa sana inquietudine. Io ero sempre alla ricerca di qualcosa di più. E Chiara spesso comunque mi riportava a questa preghiera. Ma Dio aveva i suoi tempi. E che cosa si è inventato Dio? Un monastero di clausura. Io ricordo quando Chiara diceva devi pregare di più. Sì, mo' ci vado, mo' ci vado. Diciamo che tra Marta e Maria amavo fare tanto Marta e poco Maria. Però io difendo ancora la categoria di Marta. Perché se non c'era Marta Gesù quel giorno non mangiava. Però facevo troppo Marta. E invece Chiara puntava a questa Maria. Ma non erano i tempi. Non erano i miei tempi e neanche quelli di Dio. E Dio si inventa un monastero di clausura. Prima di arrivare a Cascio, mio tesoro, fermiamoci per un momento a Mergigori. Perché lui sotto una guida attenzione non ci facciamo la fede fai da te. Quando sei fragili o comunque ancora acerbi nella nostra fede c'è bisogno di qualcuno che ci porti per mano. E lì una suora ti è in strada verso una figura che sarà determinata nella tua vita. Quella di una psicologa. Mariella. Come sei arrivata a lei? E perché soprattutto? Mariella è stata un dono speciale oggi in cielo pure lei. Io conosco questa suora della comunità delle Beatitudini suor Teresa Benedetta della Croce. E suora giovanissima che mi seguiva in quel periodo spiritualmente e lei sente questo mio disagio a livello psicologico senza neanche capire poi fondamentalmente... Che cos'è che ti fa star male ancora? Questa continua ricerca. Volevo sempre qualcosa di più. E forse avevo bisogno di trovare il mio essere donna. Il mio sentirmi donna. Che ovviamente con tutte le ferite che avevo faticavo. E mi sentivo sbagliata anche nel rapporto con Dio nel rapporto con le persone. e sor Teresa mi dice guarda c'è una donna una donna speciale e Mariella lei lavora a Roma vacci io subito ma anche la paura delle psicologhe tu avevi avuto una finta psicologa esatto che ti aveva trascinato non è che mi andasse proprio devo dire dice vacci vacci e insiste non demorde e un giorno prendo il coraggio le telefono e lei mi dice ti aspetto e quindi era un ti aspetto accogliente non vedevo lo psicologo subito era qualcosa che che mi accoglieva e cosa ti ha dato questa donna? Oh questa donna mi ha dato tutto tutto mi ha dato la sua professionalità perché è una psicologa veramente in gamba e quindi è riuscita a a farmi sentire amata forse perché era una donna che conosceva il dolore è vero di una perdita sì Mariella il giorno della mia telefonata era appena entrata in una chiesa lei aveva perso un figlio un figlio di leucemia fulminante un ragazzo di vent'anni Andrea e lei era entrata in questa chiesa e Mariella ha altre due figlie Erika e Martina e entrando in questa chiesa aveva detto addio io ti ho dato mio figlio e dammi qualcuno da amare da amare dell'amore che avrei dato Andrea arriva la mia telefonata io queste cose le ho sapute dopo la morte di Mariella lei mi accoglie dopo che sono uscita dal suo studio prende il telefono e chiama Sor Giacomina il monastero di Santa Rita da Cascia e dice ho conosciuto una ragazza ve l'affido nelle preghiere sta a rischio solo Dio potrà agire ma ha bisogno che la sosteniamo anche spiritualmente io non conoscevo Cascia e non conoscevo niente ho incominciato ad andare da Mariella e Mariella mi diceva io posso aiutarti posso aiutarti piano piano ma ci serve qualcuno che ti segua spiritualmente e io dicevo Mariella ma io ho fatto già il mio percorso ho già capito sono stata a misuori questo, quest'altro non lo so però continuavo ad avere questa inquietudine questa sana inquietudine perché devo dire che ero una sana inquietudine Mariella diceva io ti aiuto ti aiuto nell'umano ma non posso intervenire nella parte spirituale bellissimo una donna psicoterapeuta ma una donna sposata consacrata nei salvatoriani che dedicava la sua vita agli ultimi ha realizzato cose bellissime in Albania io le ho sapute tutte dopo un giorno le racconteremo sai mi stai dando veramente una grande io Mariella se tu sei d'accordo fermiamoci esattamente dove ci eravamo interrotti l'altra volta anche se abbiamo arricchito questa storia di mille particolari stiamo per andare a Cascia e Cascia ci ha aperto le porte e le grate suor Jay come tu la racconti la vedremo per la prima volta negli occhi state con noi subito dopo la pubblicità non ve ne andate Marie Angela Calcagno è una donna che è passata da servire Satana a servire Dio ma questo viaggio nel mondo e negli abissi del dolore è stato un viaggio faticosissimo costellato però se mi permetti Maria Angela di Angeli Custodi che sono molto spesso donne quasi sempre donne dopo aver trovato il grande amore che però ti sfugge perché Luca muore per una brutta malattia è contratta in seguito a una trasfusione queste donne hanno il nome di Chiara Mirante che tu eri stata inviata ad uccidere di Mariella che è una psicologa di suore che ti fanno capire che non si guarisce nel corpo nel corpo che tu avevi violato più volte o ti eri fatta violare senza guarire la tua anima arriviamo a Cascia dove vieni spedita ma dove arrivi quasi per caso perché stai con dei tuoi amici e ti vai a fare una bella mangiata di tartufi è così? fettuccino al tartufo fettuccino al tartufo io Cascia non la conoscerò per Santa Rita ma perché un collega mi dice andiamo a mangiare se non a me piace mangiare e mangiare bene arriviamo lì e arrivati a Cascia e lui mi fa andiamo da Santa Rita sai qui c'è Santa Rita la Santa dei casi impossibili allora ho guardato il mio curriculum dei santi madonne varie e dico questa mi manca nel mio elenco e dico l'ironia l'abbiamo confermata stamattina è una mia prediletta per arrivare a Dio eh allora dico andiamo da questa Santa però come entro dentro lì un pellegrino mi riconosce e mi dice ah ma tu sei Angela di Nuovi Rizzonti che stava a Međugorje essendo che a Međugorje mi era venuta la sindrome del pellegrino perché mi rincorrevano tutti poi dopo la testimonianza del 2006 al festival dei giovani allora sono scappata subito e arrivo alla basilica inferiore perché sotto Santa Rita c'è la basilica inferiore e trovo la beata Maria Teresa Fasce e lì sento per tre volte fermati allora esco dalla basilica inferiore prendo il cellulare e chiamo Mariella la psicoterapeuta e gli dico senti Mariella guarda credo che adesso abbiamo bisogno dello psichiatra mi fa per chi? e perché adesso sento pure le voci mi dice ma dove stai? e dico guarda io non so dove sto io ti posso dire che qui le monache le mettono tutte in orizzontali mi fa c'era la beata Fasce e Santa Rita poi sopra ma come tutte in orizzontali e dico sì perché qua stanno tutte in orizzontali ma mi vuoi dire dove stai? sto a Cascia e mi dicono da Santa Rita stai a Cascia io non sapevo della famosa telefonata che è Mariella e dico sì Mariella guarda qui mi fa non andare via da Cascia senza andare a parlare con Sor Jay ti fermo Sor Jay come con grande rispetto chiami questa suora questa donna bellissima che adesso andiamo a conoscere è una monaca costiniana che ha accettato non solo di farsi incontrare di far rivelare il suo nome si chiama Sor Maria Giacomina Stuani ed è una delle tante anime splendente di quel santuario noi siamo andate a pizzicarla perché ci fermiamo qui con questo racconto una giovane donna che bussa al parlatorio numero 2 vediamo cosa succede dall'altra parte questo è su Giacomina ricordo perfettamente quel giorno io ho sentito suonare il campanello del monastero 5 minuti prima dell'orario della preghiera e sono scesa e ho aperto lo sportellino della grata e mi si è presentata davanti una giovane donna e ha chiesto di suor Giacomina e io sorridente gli ho detto eccomi sono io negli occhi di Angela io vedo una ricerca e un desiderio soprattutto di essere ascoltati infatti non ci eravamo mai viste mi ha trattenuto mezz'ora perché in mezz'ora mi ha raccontato il mio compito in quel momento era ascoltarla da quel momento in poi io sento che il Signore prende in mano la cosa quella che sembrava tutta una serie di coincidenze però ha trovato una spiegazione solo in Lui lei ha parlato di una persona, Mariella che era anche nostra amica era amica della comunità noi già conoscevamo Mariella da diverso tempo dopo qualche giorno da questo incontro con Angela al parlatorio ho detto a Mariella come sta Angela salutala da quel saluto Angela ha sentito poi anche lei il bisogno il desiderio di ritornare e quasi subito mi ha chiesto se potevo accompagnarla spiritualmente Mariella aveva intuito una cosa bellissima che il suo lavoro di terapeuta non poteva proseguire se non era accompagnato da una figura spirituale la libertà è la prima stato d'animo, emozione che io ho sentito entrando in clausura e allora come il Signore non ha costretto me ma mi ha lasciato libera di arrivare passo dopo passo fatica dopo fatica, gioia dopo gioia alle varie tappe di un cammino da consacrata io sento che la persona deve essere libera di arrivare a qualcosa di grande posso aiutarti a intraprendere la strada ma tu devi decidere chi ti vuole bene ti lascia libero anche di sbagliare e la libertà è il dono più grande che il Signore poteva farci uno dei tanti doni più grandi e c'è ancora chi si chiede perché abbia ancora un senso la clausura io non so se questi occhi disarmanti è stato un incontro di grazia lo posso dire a Sir J che non so se ci vedrà o ci vedrà poi con calma dopo è stato un incontro di grazia e il montaggio non ringrazierò mai abbastanza il nostro Giacomo Avanzi con grande umiltà ha montato tutto quello che avete visto poteva anche non farlo Maria Angela tu usi un'espressione terribile ma è molto eloquente e significativa vomiti tutto addosso a Sir Giacomina perché quello era il momento della liberazione perché le chiedi di essere accompagnata cosa intuisci che dall'amore di questa donna può nascere? bello incontro con Sir Giacomina e all'inizio non è stato semplice no? perché io le dico ho preso un anno sabatico e l'anno sta per terminare devo decidere e lei mi guarda e mi fa beh l'importante che prendere un anno non sia perdere un anno e io le faccio prendere un anno non sia perdere un anno e io le faccio l'ennesimo dottore nel tempio e me ne sono andata poi quando ho incontrato Mariella e mi ha detto ti saluta dice ma l'hai scritto? no ma io coi pinguini ho un po' di allergie e una domenica sera tornando dal lavoro era tardissimo erano le due della mattina che cosa faccio? dico Dio se veramente come dice Mariella questa persona me l'hai messa accanto tu io adesso le scrivo un'email ma questa mi deve rispondere subito le due della mattina monastero di clausura quindi le scrivo questa email dove le consegno veramente tutto ciò che sto vivendo e spedisco dopo due minuti mi arriva la risposta ti aspetto lunedì a casa che ci fa una monaca di clausura Dio ha fatto veramente tu però Maria Angela il vizio di sfidare Dio ancora non te lo sei tolto adesso non è più una sfida che cosa è? adesso è un affidarmi e questo l'ho imparato con le monache adesso non è più una sfida adesso è un fidarmi e un affidarmi di Dio che è diverso però volevo se no sembra che le monache le due di notte vorrei per carità non ci stanno e allora io avverto Mariella e dico ma che ci fa una monaca le due della mattina sul computer lei mi fa scusa e a te sembra normale di scrivere alle due della mattina una monaca? Quanta leggerezza sta scendo fuori e allora il lunedì vado da Sor Giacomina ovviamente la prima cosa che le dico dico senti ma mi spieghi che ci facevi tu alle due della mattina e lei mi fa se tu la smettessi di sfidare Dio noi potremmo dormire Dio santo Dio santo dalle caviglie mi sono sentita svegliare e ho sentito che dovevo andare al computer tu capisci bene che è un monastero di clausura quindi ho dovuto andare da Madre Natalina che era la badessa di quel periodo le ho dovuto dire quello che stava succedendo e tutte e due quindi la santità di Madre Natalina che io dico sempre è Maria che cammina quindi immaginatevi due pinguini in camicia da notte che andavano davanti a internet aprivano il computer quindi la fede di queste anche due donne e gli arriva la mia email e lì hanno risposto subito e quindi avevo sfidato Dio per l'ennesimo Guardate, più ci si addentra io dico che di questa storia si potrebbero dare tantissime letture sulla base di tanti racconti ogni pagina potrebbe essere argomento di un approfondimento una domanda che ci ha balenati da fare, da rivolgere al suo Giacominista ma in fondo a te di questa amicizia cosa è arrivato perché è così immediato capire l'amore che ti è venuto da Santa Rita e dalle sue donne che abbiamo voluto rivolgere al contrario domanda che storia è quella di una donna come te per loro? Ascoltiamo su Giacomina L'amicizia con Mariangela mi ha regalato tantissimo io sono cresciuta insieme a lei abbiamo camminato insieme perché anche io avevo bisogno di maturare, di crescere come donna e anche nel cammino di consacrata perché in alcuni momenti ho intuito che dovevo pregare di più per poterle stare accanto la prima cosa sulla quale il Signore ci aiuta a camminare una volta chiamate dentro il molastero è proprio la femminilità il nostro essere donna non possiamo essere pienamente monache se prima non siamo pienamente donne il nostro essere belle deve sempre condurre non a noi stesse ma sempre a quella bellezza che come dice Agostino è così antica e così nuova oggi Mariangela è una donna che ha stima di sé libera nelle sue scelte anche di sbagliare non è che non si sbaglia più che ha stima di sé che si vuole bene cosa che non c'era quando ci siamo incontrate perché pensava che neanche il Signore le voleva bene invece bisogna far capire alla persona che il Signore è il primo invece che ti vuole bene c'è un bene più grande che non è solo la cosa esteriore c'è il bene dell'anima la felicità in un posto come questo sta non in ciò che fai ma in ciò che sei la felicità non me la dà una vita in cui tutto va bene perché allora Santa Rita sarebbe una frustrata una risentita perché nella sua vita andrà da tutto male invece lei si è fatta santa ecco la felicità sta ogni giorno nel dire sì alla volontà di Dio tutti possono rinascere non c'è salvezza che sia chiusa a nessuno la salvezza è un dono che il Signore vuole dare a tutti Sorgei ti mando un abbraccio grande così a te e tutte le consorale di Cascio senti Maria Angela tu hai capito Dio che cosa vuole da te? ma io credo che Dio da me voglia la pienezza della gioia semplicemente questo e vuole che io mi possa sentire una persona libera io ho scoperto una cosa fondamentale che la vera libertà non sta nel far ciò che si vuole la vera libertà sta in una parola sola nell'obbedienza io dal momento in cui ho incominciato a obbedire mi sono sentita una persona libera di amare e uno dice vabbè a chi obbedisci tanti mi dicono non sei suora non sei prete non sei consacrata sì sono una semplice battezzata e sono fiera di essere battezzata ribattezzata perché questo non ce lo dimentichiamo mai c'è un'altra pagina tu sei stata ribattezzata perché il tuo certificato di battesimo non si è più trovata cioè qualcuno potrebbe immaginare questa storia come qualcosa di incredibile cioè che si fa difficoltà a credere è una storia tutta vera le mille voci raccolte lo confermano ce ne andiamo un minutino in pubblicità perché c'è un uomo di Dio che noi abbiamo moltissimo che è il Cardinal Comastri che ha anche la sua da dire dopo la pubblicità non esiste abisso dal quale Dio non possa tirarci se lo vogliamo realmente questa è la sintesi di una storia che io spero in tanti abbiate seguito dall'inizio la storia di una giovane donna che prima fa botte con Dio poi si fa sedurre da Satana e dopo a Dio ritorna con la complicità di quest'amore infinito per Maria e di un Dio che mette sulla nostra strada uomini e donne straordinarie come le suore che vedete tra le nostre spalle le suore di Cascia Maria Angela Calcagno tu a Cascia ad un certo punto ti senti di casa e in casa e da allora tutte le zavorre della tua vita che ti tengono ancora di altrove le lasci andare e lì trovi la gioia vera io ti ho fatto una domanda durante la pubblicità ma tu sei davvero felice adesso tu mi hai detto ho la gioia la felicità è un'altra cosa è un fiammifero che si accende e poi dopo la fiamma si spegne cosa è la tua gioia oggi? La gioia per me oggi è quella che Chiara Lubick dà una definizione secondo me bellissima che chiama la divina commedia cioè io posso avere un cuore stritolato dal dolore ma all'altro gli arriva l'incontro con Cristo perché Cristo è la pienezza della gioia quindi io posso vivere un dolore ma all'altro non gli arriva il mio dolore gli arriva l'amore l'amore che ho nell'incontro con Cristo e è difficilissimo non è una cosa semplice e dico che tra povertà, castità, obbedienza e gioia credo che la gioia sia quella più difficile anche perché oggi c'è un mondo che non ti permette di viverla questa gioia quindi o tu hai incontrato veramente Cristo o sei una persona così, incompleta Mi rivolgo ad Angela perché noi abbiamo raccontato una cosa Mariangela diventa tale dopo il battesimo eh fatta da adulto con Chiara Mirante a Padova con la comunità Nuovi Orizzonti Angela No, no, non era a Padova ero già Era già stata battezzata ribattezzata No, allora quando io ho il battesimo Mi sono perso il passaggio scusate lo conosco a memoria il libro però questa cosina me la... No, quando io arrivo a Cascia che cosa succede? Che suor Giacomina mi chiede ma quando è la tua data di battesimo? Tu dici non la so Io non lo so quindi faccio varie ricerche e veniamo a scoprire che non esiste un certificato di battesimo che essendo io figlia adottiva quindi nessuno riusciva a capire A risalire A risalire e avendo un amico vescovo che all'epoca era il vescovo di Padova Monsignor Mattiazzo chiedo a lui di poter essere battezzata e quindi di ricevere la Cresima e l'Eucaristia e quindi l'8 dicembre del 2010 grazie a un intuito di sor Giacomina io riceverò nella cappellina privata del Vescovo il battesimo, la Cresima e l'Eucaristia e lì Angela diventa Mariangela Angela abbiamo il Cardinal Comastri fatto una testimonianza bellissima al nostro Enrico Selleri spiegami solo una cosa che fine avrebbe fatto Angela se non fosse diventata Mariangela? Posso rispondere con una battuta? Se mia nonna avesse avuto le ruote sarebbe stato un carretto non lo so Ascoltate il Cardinal Comastri che oggi pomeriggio sarà presente alla presentazione del libro La vita di Angela è come un film in due tempi il primo tempo è drammatico anzi vorrei usare l'aggettivo infernale il secondo tempo è luminoso, è gioioso e il primo tempo tutto parte dalla mancanza della famiglia dalla mancanza della mamma una figlia che si è sentita rifiutata dalla mamma e l'affetto della mamma è l'affetto più grande potremmo dire è il primo affetto della vita nella quale possiamo dire che Dio ci viene incontro e ci fa sentire il suo amore quando quell'affetto manca quando quell'affetto abortisce evidentemente le ferite sono profonde e la vita di Angela urla, grida la mancanza della mamma ha fatto l'esperienza della disperazione io potrei dire è arrivata all'anticamera dell'inferno Angela però alcune persone per esempio Mariella, Chiara Mirante le monache di Cascia le hanno fatto sentire un amore che lei non aveva mai provato un amore vero un amore pulito un amore che profuma di Dio chiaramente quell'amore ha guarito Angela oggi i giovani non sanno più cos'è l'amore sta circolando tutto amore che è la parodia la caricatura dell'amore l'adresse diceva oggi la più grande menzogna nei paesi ricchi è la menzogna che riguarda l'amore se voi chiamate amore a cantare con una prostituta chiamate a fare l'amore anche a tradire la moglie o a tradire il marito non sapete più cos'è l'amore è l'amore vero l'amore che profuma di Dio quello che riempie la vita la rende bella Angela ne è una testimonianza vivente Dio è presente dappertutto in modo particolare nel dolore perché il dolore demolisce tutte le riserve di orgoglio che noi abbiamo nel dolore ti trovi a tu per tu con la tua povertà a tu per tu con la tua piccolezza con la tua insufficienza se in quel momento apri il cuore entra Dio perché nell'umiltà Dio entra l'umiltà è il passaggio che permette a Dio di entrare in comunione con noi Angela ha avuto questa umiltà per questa rinata si può cadere anche nell'abisso ma se il cuore con un atto di umiltà è capace di dire Gesù aiutami Dio aiutami la vita cambia Quanto amiamo il Cardinal Comastri Maria Angela tu non hai saputo amare posso essere se sono troppo brusca dimmelo una mamma e un papà che ti hanno scelta con l'adozione adesso hai davanti a te madri e padri disperati noi ne conosciamo tantissimi persone che forse dicono vai via di casa perché tu sei irrecuperabile a loro che cosa ti senti di dire e se mi permetti cosa ti sentiresti di dire alla tua mamma che adesso non c'è più ma intanto a mia mamma che non c'è più di chiedere perdono perché non ho saputo farmi amare per tante mie ferite però grazie a Dio Dio non ha confini e quindi so che lei il perdono me l'ha dato a tanti papà e tante mamme specialmente dopo la trasmissione qua e mi sono arrivati tanti scritti tante ed è per questo che proprio oggi andrà online un sito dedicato al libro che è proprio rinasco piano piano perché per dare la possibilità ai giovani ai genitori di avere un dialogo oggi è un mondo che non dialoga più però io dico una cosa e questo lo dico spesso quando incontro i pellegrini mi accascia smettiamola di fare tanti Ponzio Pilato che si lavano le mani e dicono non è colpa mia sino a quando continueremo a puntare il dito verso l'altro tre saranno rivolte verso di noi allora mi devo mettere in gioco io che cosa sto facendo io per cambiare questo mondo troppo facile giudicare oggi è colpa della politica è colpa solo nella chiesa dico se non siamo primi noi a convertirci e allora incominciamo noi io oggi Mariangela che cosa posso fare per salvare una vita a me l'ha salvata un abbraccio non dobbiamo scoprire l'America bastano un sorriso un saluto in questi giorni ero a Roma e nessuno guarda non ci salutiamo ma cosa siamo? dei cristianucci siamo dei tiepidi quindi la parola di Dio dice non sei né caldo né freddo io per questo ti vomiterò no noi dobbiamo essere dei caldi noi dobbiamo essere persone che hanno incontrato Cristo quindi dico a quei padri a quelle madri se ce l'ho fatta io ce la vuoi fare pure il tuo figlio sono ridata questo è il libro la presentazione oggi pomeriggio la lunsa Monica a te non posso aggiungere altro a queste parole grazie grazie grazie